È stata una partita molto difficile, su un campo che probabilmente la maggior parte di noi non conosceva, essendo un gruppo totalmente nuovo. Un ambiente ovviamente difficile perché ci sono grandi aspettative, lo sapevamo, ma guardiamo il lato positivo, prendiamo un punto e pensiamo già alla partita successiva. Al comunale, l'Arezzo calcio femminile di Mr. Mike pareggia contro il San Marino in una partita a due volti per le ragazze a Maranto. Primo tempo sottotono, ospiti in vantaggio al ventitresimo con Barbieri. Nella ripresa le ragazze di Mr. Mike hanno un altro piglio e ciuffano il pareggio al sessantaduesimo con Zito. Poi sul finale hanno un paio di occasioni, una clamorosa compaganini per portare a casa i tre punti. Quando non fai allenamento in un campo e vieni a giocare in un campo con larghezza e ampiezza e non hai mai giocato in questo campo. Tutte quelle ragazze, la nostra rosa di 27 che abbiamo, non sono abituate a giocare in queste dimensioni. Ci vuole un po' di tempo per conoscere il campo. Poi c'era anche il vento il primo tempo, quindi forse il vento era un po' come un uomo in più per loro per fare pressing a noi. Quindi il vento ha fatto buon pressing per loro. Però no, l'atteggiamento era giusto. Noi sappiamo molto bene che quando entriamo in queste partite con l'aspettativo di vincere vogliamo fare questo gioco con il pallone, quindi il nostro DNA questo. Però nel secondo tempo le ragazze sono entrate con l'atteggiamento per entrare e vincere la partita. Quindi ho visto un Arezzo che mi piace, ho visto una squadra con il mio DNA che mi piace molto. Quindi questo secondo tempo fino all'espulsione era assolutamente perfetto. Non so quante opportunità abbiamo, cinque mi pare, opportunità che abbiamo creato nel secondo tempo dentro l'area. E lì vuoi un po' di fortuna per fare anche il secondo gol. Grazie. Grazie.